La tavola Ouija Se ci senti, Debbie, se puoi, dacci un segno È usata per comunicare con la morte Sara, falla finita! Non lo sto muovendo! L'8 gennaio Devi interrompere il contatto, altrimenti tornerà per te Inizia l'anno Vuole ucciderci tutti. Chi sarà il prossimo? Con il terrore Oddio! Non dovremmo stare qui Ouija Da giovedì 8 gennaio al Cinema